Alle volte accadono dei fatti inspiegabili. Avvenimenti che durante il corso delle nostre vite non riusciamo a capire. Ma è solo la nostra ragione che si rifiuta di capire, mentre una parte di noi ha già trovato la risposta. Esistono forze che ci muovono verso una direzione senza che ce ne rendiamo conto, fino a farci convettere azioni che non avremmo mai pensato di compiere. Cose al di fuori della razionalità umana. Mi chiedo cosa determini davvero il nostro destino. Mi chiedo se credere fortemente in qualcosa possa davvero renderla reale.